Dopo quattro mesi di chiusura forzata e polemiche sfrenate, il Pao riapre i battenti. Il locale di Paolo Forlì si presenta in totale restyling e mette a tacere tutte le accuse di illegalità e rumore. Siamo perfettamente a norma e con noi numerosi locali del lungomare, precisa il titolare, che si fa portavoce di numerosi altri chalet dediti all'intrattenimento serale. Il tratto iniziale del litorale infatti sta diventando sempre di più un punto di riferimento per il turismo notturno della zona. Dalla Medusa alla Conchiglia, dal Contichia al Jonathan, tutti si propongono come volano del turismo sanbenedettese. Abbiamo scelto di rispettare le regole, aggiunge Paolo Forlì, e speriamo che ora tutti facciano come noi. Scelta di mettersi in regola, scelta di dare un nuovo look e sicuramente di innalzare il livello estetico anche della città. Questo porterà del bene a tutti. Non chiediamo applausi, non chiediamo monumenti, però insomma che abbiamo fatto un buon lavoro per tutta la città, questo è evidente. Ora noi non ci aspettiamo che si faccia nulla di che, ci aspettiamo soltanto che le regole vengano come sempre rispettate. Forlì poi passa e rassegna tutti gli interventi effettuati nel proprio locale, a testimonianza del sacrificio che ogni titolare di club deve fare per attenersi alle regole comunali. Porte tagliafuoco, idranti antincendio, uscite di sicurezza, impianti elettrici a norma e vernici ignifughe. Lavori per oltre 100.000 euro che rendono ora il locale un altro gioiello del lungomare Riverasco. A margine della conferenza poi Forlì ha presentato una nuova associazione culturale, dal nuovo Movida Pulita. Questa sarà aperta a tutti coloro che possono vantare un locale a norma di sicurezza, per non fomentare l'uso di droga, l'abuso di alcol e la guida è stato debrezza. Un divertimento quindi in assoluta legalità, per tutti gli iscritti, maglietta e tessera. Il messaggio finale, appunto, la volontà di questa associazione sarà appunto quella di andare a curare tutti gli interessi di tutte quelle persone che vogliono divertirsi la notte, operare nei locali notturni, farlo in totale tranquillità e non sentirsi con il fiato sul collo e con i 100.000 occhi addosso e far capire che questo mondo è fatto anche di persone che vogliono comunque fare dei grandi progetti, dei progetti seri, interessanti, che vogliono crescere insieme a giovani e far crescere il commercio turistico di San Benedetto e delle zone limitrofe.